la vernero ancora no vabbè quindi mi toccherò studiare veramente per il resto ma è fermarsi su un passaggio poi donare la parola Dio santo vedi quando stavi il telefono c'era qualcuno che arriva e poi ancora un po' a stringere non lo so l'hai visto? c'era già contromano dal dosso ancora prima questa vuole un subaro questa sinistra questa qui di testa finché nel periodo del ciclo hanno comunque delle ma sì ma comunque anche le prime settimane che hai le perdite da impianto non ho capito come sono diventate tre però ah quella con il coso sì ho capito sì sì adesso ti sei 16 o 18 quella con il nostro 18 18 questa bianca può entrare vai vai ma questa non era di là comunque poi devi andare ma lo sapete che non ci stanno due corsie vabbè passami comunque a destra ti ha già mangiato lo vedi questo? che sei acido troia ahia che ragnata passami A presto! Grazie a tutti. Eccolo. Niente, il destino che oggi è così. Dimmi che cosa sto tentando di fare in versione qua. Ah, ecco. Niente, il destino che è così.